sai tutti vogliono la sincerità ma nessuno regge la verità quando ti fiderei di te stesso saprei come vivere fidati di me nessuno è migliore di qualcun altro ognuno è speciale a modo suo a volte mi chiedo se vale la pena essere sinceri visto che al mondo vanno sempre avanti gli ipocriti la vita mi ha buttato giù tante volte mi ha mostrato cose che non avrei voluto vedere ho vissuto la tristezza e i fallimenti ma una cosa è certa mi rialzo sempre mi è impossibile preferire le persone agli animali agli animali manca la parola alle persone il silenzio nella vita mai dire mai e mai dire sempre perché tutto può iniziare e tutto può finire e la verità disse alla falsità tu potrai anche anticiparmi ma io ti raggiungerò sempre sai l'arroganza è una malattia strana uno dei sintomi peggiori è la convenzione di essere migliori degli altri posso dirti una cosa elimina per sempre dalla tua vita questa domanda cosa dire è una buona maniera per aiutare certa gente a trovare la strada giusta ci sono quattro parole importanti nella vita amore onesta verità e rispetto senza queste cose nella vita non sei nessuno vuoi indossare tutte le maschere che vuoi ma le tue azioni diranno sempre che sei l'albero si riconosce dai frutti ricordati questa frase se è una cosa non sempre sarai ripagata con lo stesso bene che hai donato ma tu fallo lo stesso perché il bene paga sempre pensando a tutti spesso ho dimenticato me adesso mi ricorderò di me e poi valuterò a chi è vale la pena pensare fate attenzione alle 20 vittime e spesso sono i peggiori carnefici posso dimenticare una data posso dimenticare un nome posso dimenticare una password ma mai e per nulla al mondo potrò dimenticare chi mi ha aiutato ogni persona deve guardare per tutta la vita verso quattro direzioni di fronte per sapere dove sta andando dietro per ricordare da dove viene sotto così da non calpestare nessuno di lato per vedere chi lo accompagna nei momenti difficili sai non hai bisogno di metterti in mostra se sei speciale si accorgeranno di te anche nel silenzio perché le buone azioni non fanno rumore ricorda la cattiveria piaccia sempre con il biglietto di ritorno in tasca chi è buono di cuore nella vita soffre sempre sai ho perdonato molto ma non ho mai dimenticato ciò che mi è stato detto e ciò che mi è stato fatto secondo me non importa se hai stile fama o soldi se non hai buon cuore e umiltà non vale nulla a volte hai solo bisogno di una pausa da tutto nella vita tutto si sa dietro di te tutto si dice davanti a te tutti tacciano se ognuno potesse occuparsi dei propri fatti e chiudesse la bocca la vita sarà perfetta sei rara non regalare te stessa a chi non ama le cose rare quando capisci che stai bene anche da sola vuol dire che hai già sofferto troppo avrai dei momenti difficili ma ti faranno apprezzare le cose belle alle quali non prestavi attenzione sei non è facile raggiungere la serenità il viaggio è lungo e faticoso e il biglietto costa caro ma se si ha la fortuna di arrivare a destinazione il panorama non teme confronti sei a volte si ringrazia anche che ci fa del male perché costringendoci a cambiare strada ci fa conoscere mondi migliori grazie mille per restare con ciaspa animal ci vediamo alla prossima con un nuovo video grazie 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 grazie